Il tuo cross per il colpo di testa di Ferrari, tanta corsa su quella fascia, ma è servito a poco perché è chiara involuzione da parte della squadra. Sì, purtroppo non stiamo vivendo un momento bellissimo, come si può vedere. Noi ovviamente siamo consapevoli che lavorando sicuramente torneremo ad essere quelli di prima e vogliamo tornare ad essere quelli di prima e ce la metteremo tutta, io per primo, tutti gli altri, io per primo ovviamente perché sto parlando io, ma tutti gli altri daremo sempre il massimo e cercheremo sempre di dargli più per tornare quelli di inizio campionato. Presidente, poco fa i nostri microfoni hanno avuto uno sfogo durissimo, ha detto che con questo ambiente, con questo stadio diventa difficilissimo giocare. Sì, non è assolutamente facile giocare con questo clima, però comunque ci siamo creati un po' noi, un po' i tifosi sono pretenziosi, si sa, questa è una cosa che sa tutti, ovviamente noi dobbiamo cercare di renderli più felici possibili in tutte le situazioni. Oggi che cosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico? Perché veramente avete creato zero? Per quanto riguarda questo argomento qua, non voglio metterci bocca e ce la metterà il mister. Se mi puoi dire se hai visto qualcosa dopo il triplice fischio, perché c'è stato qualcosa di brutto in campo. Ma io ho visto un rosso esagerato a Rizzo, che non l'aveva neanche cercato lui, è andato un uomo a cercare lui e piuttosto c'era magari una sanzione più severa da prendere nei confronti del ragazzo da Lucchese, però ovviamente non sono io l'arbitro, quindi... Perfetto. Perfetto.